Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, devo dire onestamente che sono sempre più convinto che quello che sta per succedere negli Stati Uniti potrebbe essere una pagina di storia incredibile, un qualcosa che, ripeto, sicuramente passerà alla storia, non solo di quel paese, ma alla storia mondiale. Ora, è di stamane l'intervento, tra l'altro, del segretario di Stato Mike Pompeo che nel suo intervento è apparso assai sicuro di quello che stanno facendo e soprattutto è apparso assai sicuro di poter realizzare l'obiettivo che si sono prefissati e soprattutto di essere sicuro che sono avvenute delle cose che hanno sovvertito quello che è la volontà democratica degli americani. Ora, il comportamento, tra l'altro, di questa sinistra americana assomiglia molto a quella sinistra che vediamo nel resto del mondo perché, insomma, l'impostazione è sempre la stessa. Si sono affrettati, come ho detto, in questi giorni a cantare vittoria anche se assolutamente le cose erano ancora in atto. C'è lo spoglio delle schede in diversi stati e non c'era assolutamente un risultato ufficiale. Questo semplicemente lo abbiamo visto spesso anche in Italia per screditare l'avversario politico, per far credere all'opinione pubblica che di fronte a un risultato ormai certo acquisito e confermato c'è in questo caso la vittoria di Biden, c'è un pazzo come Trump che non accetta la vittoria e va così messo al muro perché vuole sovvertire la democrazia mentre è esattamente il contrario. La democrazia è un'altra cosa, la democrazia è contare ogni voto perché ogni voto è importante. Se ci sono eventualmente delle situazioni poco chiare, cercare di andare a fondo alla questione per non incorrere in nessun tipo di errore perché è giusto che gli americani e in generale uno Stato abbiano la certezza di aver eletto il presidente in base ad una maggioranza come avviene nella maggior parte del mondo. Ripeto, io sono estremamente tranquillo soprattutto dopo aver ascoltato appunto come stavo dicendo l'intervento del segretario di Stato Mike Pompeo che si è detto certo di quello che stanno facendo si è detto certo che ci sono assolutamente tutte le possibilità affinché il risultato venga sovvertito e ha raccontato tra l'altro alcune anomalie che ci devono far riflettere tra le quali il fatto che in molti stati come il Michigan, come il Wisconsin Donald Trump era largamente in vantaggio ad un certo punto e poi improvvisamente così sono arrivati tutti i voti solamente per Biden. Questo anche da un punto di vista così dell'immaginario sembra inverosimile perché quando ad esempio le persone vanno a depositare le loro schede elettorali nell'urna lo fanno con una certa casualità non è che si presentano prima 100.000 simpatizzanti di Biden e poi un'ora dopo si presentano 100.000 simpatizzanti di Trump non è assolutamente così lo sappiamo e quindi questo fatto sembra essere anomalo sembra essere un fatto poco spiegabile esiste ormai anche la certezza per quanto riguarda l'utilizzo del software che sembra accertato abbia dato dei risultati assolutamente ingannevoli non veritieri non da ultimo poi si fa sempre più strada ormai non è soltanto una voce che ad esempio nel Michigan abbiano votato 14.000 persone defunte ed è uscito anche un nome che persone specialmente della mia età così appassionate di sport si ricorderanno un certo Joe Frazier ex campione del mondo di pugilato che quando Cassius Clay tornò all'attività dopo essere stato per ragioni politiche razziali in carcere quando Muhammad Ali tornò a combattere proprio incrociò i guanti con Joe Frazier ecco Joe Frazier che è deceduto un po' di tempo fa è stato tra coloro che avrebbero votato nel Michigan oltre ad altre 14.000 persone rimane valido l'intervento da parte del del giudice della Corte Suprema Barr che ha così deciso che venga vengono riconteggiati i voti in Pensilvania perché assolutamente ci vuol vedere chiaro ed è evidente che quando un giudice fa un simile intervento perché ha degli elementi per poterlo fare perché non basta il primo che parla di Brogli e che a questo punto appunto un giudice decida di ripartire da zero il conteggio delle schede in quello stato vuol dire che lui ha raccolto sufficienti informazioni per poter prendere una tale decisione ripeto è un qualcosa di davvero inverosimile anche i comportamenti dei media che assolutamente non hanno parlato in queste 48 ore di quello che sta accadendo anche se piano piano qualche giornale ovviamente specialmente negli Stati Uniti ha iniziato a farlo perché evidentemente non si può all'infinito sottacere quello che sta accadendo anche perché poi di colpo si potrebbero trovare di fronte a una situazione totalmente capovolta senza averne dato conto e spiegazione ai cittadini americani in particolare ma anche a tutto il mondo quindi veramente stanno succedendo delle cose incredibili io che di solito sono molto prudente nel dare le informazioni e nel trarre le conclusioni sono veramente estremamente fiducioso che potremmo essere a breve di fronte ad un incredibile colpo di scena alla cosa più eclatante più incredibile che sia mai avvenuta negli ultimi 50 anni 70 anni dal dopoguerra non solo negli Stati Uniti ma in tutto il resto del mondo c'è un presidente illegittimamente già proclamato quando invece i giochi sono ancora totalmente aperti perché ormai ci sono delle evidenze che qualcosa di poco chiaro è successo a questo punto è chiaro che vi terrò aggiornato ora per ora se ci dovessero essere altre novità importanti intanto dopo il giudice Barr è intervenuto pure Mike Pompeo segretario di Stato molto molto sicuro di sé e molto sicuro che il risultato verrà sovvertito e che Trump si confermerà presidente degli Stati Uniti con questo vi lascio vi auguro un buon poveriggio e ci sentiamo più tardi